Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla FIPILI dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. In A15 si segnala che in direzione La Spezia a causa di lavori è in vigore una deviazione tra Pontremoli e Aulla dal chilometro 86-900 al chilometro 88-100 fino alle ore 12 di oggi. Treni per un guasto agli impianti di circolazione a Firenze Campo di Marti con voglio sulla linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. A Firenze a causa di lavori sul raccordo Marco Polo è in vigore restringimenti di carreggiata tra lo svincolo di Viale Europa e lo svincolo autostradale Firenze Sud in direzione autostrada. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!